Siracusa ha tentato di estorsione aggravato dal metodo mafioso e eseguito un ordine di carcerazione. Agenti della squadra mobile della costruzione di Siracusa hanno eseguito un'ordinanza di carcerazione messa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catena nei confronti di un uomo di 47 anni ritenuto responsabile di 5 episodi di tentato di estorsione aggravato dal metodo mafioso commesso negli anni 2012 e 2013. L'arrestato, che era già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato portato nel carcere di Cavadonna per espiare la pena residua di 6 anni, 10 mesi e 3 giorni di reclusione.